Il libro dell'Apocalisse L'Apocalisse è un libro profetico ed è un libro d'arte nel quale per interpretarlo nel modo corretto bisogna capire il contesto storico e anche il linguaggio usato. Ma perché è fondamentale comprendere il contesto storico? Per esempio se una persona nel 1800 ha scritto una lettera ad un caro amico sicuramente userà un particolare linguaggio connesso a quel periodo storico ma anche userà concetti che quell'amico capirà e così interpreterà nel modo corretto. E se io oggi leggessi quella lettera sicuramente non la capirei o non avrebbe totalmente senso per me perché in realtà quella lettera non è indirizzata a me. Difatti il libro dell'Apocalisse personalmente credo che non è indirizzato a noi al giorno d'oggi perché questa era una profezia per la chiesa primitiva di quel tempo. Mi spiego meglio. Il libro dell'Apocalisse è ripieno di simboli ebraici con molte referenze al libro di Ezechiele, Isaia, Geremia nel quale questi libri profetizzano e parlano della distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi. Leggendo il libro di Ezechiele e confrontandolo con il libro dell'Apocalisse possiamo vedere che c'è una struttura analogo, una struttura profetica molto simile che parla della distruzione di Gerusalemme e per l'Apocalisse parla della distruzione di Babilonia. Ezechiele aveva profetizzato la distruzione di Gerusalemme e anche aveva profetizzato la ricostruzione di Gerusalemme. Invece nel libro dell'Apocalisse Giovanni profetizza la distruzione della grande Babilonia ma poi parla della nuova Gerusalemme e parla anche dei nuovi cieli, della nuova terra. E caso strano, la distruzione del tempio di Gerusalemme che parlava Ezechiele è stata nell'anno 586 a.C. e la distruzione del tempio di Gerusalemme è stata nell'anno 70 e queste due distruzioni sono state lo stesso giorno del calendario giudaico. L'obiettivo principale dell'Apocalisse non è stato nient'altro che rivelare Gesù Cristo e rivelare il patto della grazia incoraggiando la chiesa primitiva che stava soffrendo tanta persecuzione che Gesù stava arrivando con il suo giudizio. Mi spiego meglio. Gesù aveva profetizzato la distruzione del tempio di Gerusalemme e aveva profetizzato che quella generazione che aveva rifiutato di credere in lui era responsabile di tutto il sangue che era stato versato. E questo lo puoi leggere nel Vangelo di Matteo al capitolo 24. Dopo la morte di Gesù, la chiesa primitiva, soffrì molta persecuzione da parte dei giudai e questo lo puoi capire leggendo sia le lettere di Paolo ma anche nel libro dell'Apocalisse leggendo le lettere alle sette chiese. Prima di tutto voglio provarti che questo libro è stato scritto prima della distruzione del tempio di Gerusalemme quindi intorno agli anni 65, essendo che il tempio di Gerusalemme è stato distrutto dai Romani nell'anno 70. Una delle prime prove che questo libro è stato scritto prima della distruzione di Gerusalemme è che nelle prime versioni di Evangeli e la prima versione dell'Apocalisse era scritto che Giovanni era nell'isola di Patmos per causa dell'imperatore Nero nel quale l'imperatore Nero aveva regnato dal 54 al 68. Quindi era ancora il tempo che Nero stava regnando. Poi Giovanni al capitolo 17 parlando dei re dice 5 sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco. Quindi analizzando la storia i 5 re che erano caduti erano Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Gallio, Claudio. Uno era Nero che stava regnando e l'altro che non era ancora venuto e che quando verrà durerà poco era Galba che di fatti durò soltanto 6 mesi. Inoltre Giovanni nel primo capitolo ha scritto Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Quindi anche chi aveva crocifisso e trafitto Cristo lo ha visto venire. E da chiarire la visione o l'immagine simbolica del Messia venire sopra le nuvole era un'immagine biblica del giudizio del Messia su una nazione. Inoltre possiamo vedere che ai primi capitoli dell'Apocalisse si parla di persecuzione dei cristiani da parte dei giudei. Quindi questo era prima della distruzione del Tempio perché dopo la distruzione del Tempio i giudei avevano completamente perso la loro autorità e influenza sopra i cristiani. E un'altra prova può essere che al capitolo 11 Giovanni parla della misurazione del Tempio di Gerusalemme e significa che questo Tempio esisteva ancora perché non era un Tempio spirituale ma in realtà era un Tempio fisico e nella conclusione dell'Apocalisse al capitolo 22 Giovanni ha scritto che il Tempo era vicino e che Gesù stava venendo molto presto e questo Tempo si riferisce a quel Tempo perché non ha senso se si riferisse al giorno d'oggi e in realtà la profezia di Giovanni, Gesù le dice non sigillare questa profezia e se confrontiamo la profezia invece che Dio aveva rilasciato a Daniele Dio gli aveva detto di sigillare quella profezia perché il tempo non era ancora vicino di fatti la profezia di Daniele si è avverata all'incirca 500 anni dopo e invece nell'Apocalisse Gesù gli aveva detto non sigillare questa profezia perché i tempi sono molto vicini e come ultima prova possiamo tenere in considerazione anche l'età di Giovanni Giovanni è morto anziano e quando lui ha scritto l'Apocalisse sicuramente era giovane essendo che Gesù gli aveva detto che lui doveva profetizzare su molti popoli, lingue e nazioni e sappiamo anche che quando Giovanni era anziano non aveva più l'abilità di farlo essendo che attraverso il padre della chiesa Gerolamo lui aveva descritto che Giovanni non aveva le possibilità di andare da un'altra chiesa e doveva ricevere assistenze mediche nell'Apocalisse Gesù parla a Giovanni profetizzando e quindi come una profezia Dio parla attraverso una visione, una parola, una sensazione e un'impressione o anche un'esperienza dei luoghi celesti personalmente quando Dio mi parla per un'altra persona cioè mi dona una specifica parola o un'immagine, una profezia spesso io non la capisco ma perché in realtà non è riferita a me, non è connessa a me perché Gesù mi parla con un linguaggio simbolico o con un linguaggio che l'altra persona, la persona che riceve la profezia sicuramente capisce e ha senso per lei e quindi questo anche per il libro dell'Apocalisse essendo che è un libro profetico per avere una corretta interpretazione del libro dell'Apocalisse bisogna tenere in considerazione il contesto storico e avere anche una conoscenza del linguaggio biblico il tiro nome o significato dell'Apocalisse è Rivelazione di Gesù Cristo quindi questo libro è stato scritto per rivelare e svelare Gesù Cristo e mostrare le cose che dovevano avvenire difatti in greco la parola Apocalisse è Apocalypse che vuol dire svelare o rivelare e il primo verso dell'Apocalisse è scritto Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo a suo servo Giovanni riflettendo sulla parola rivelazione e anche sulla parola svelare sembra quasi che Gesù fosse ancora nascosto oppure velato in quel tempo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi spiega in modo chiaro chi erano prima di tutto coloro che non avevano ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo e cosa significasse ancora avere il velo ora leggiamo la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 3 ora se il ministero della morte era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito se infatti il ministero della condanna fu glorioso molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso sarà molto più glorioso ciò che è duraturo avendo dunque questa speranza usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato ma le loro menti sono diventate ottuse infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo anzi fino ad oggi quando si legge Mosè un velo rimane sul loro cuore ma quando Israele si sarà convertito al Signore il velo sarà rimosso ora il Signore è lo spirito e dov'è lo spirito il Signore vi è libertà e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo spirito del Signore quindi il patto mosaico era come un velo che teneva nascosta la rivelazione di Gesù Cristo ai giudei certamente il patto mosaico era terminato per Dio attraverso il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce ma nella realtà i giudei che non avevano accettato e ne riconosciuto Gesù continuavano a offrire sacrifici animali e facevano anche tutti gli altri riti prestabiliti dalla legge ma tutto non aveva valore non aveva più valore agli occhi di Dio e nella lettera all'ebrei al capitolo 8 verso 13 è scritto dicendo nuovo patto egli ha reso antico il primo ora quello che diventa antico e invecchia è vicino ad essere annullato quindi il nuovo patto il patto della grazia cioè il patto migliore che attraverso la morte e risurrezione di Gesù il patto mosaico è stato completamente reso obsoleto annullato come Gesù ha detto lui ha portato a compimento la legge e difatti ci ha resi santi e giusti attraverso la fede in lui riconoscendo che lui è morto e risorto per noi ogni uomo diventa giusto e santo e può accedere alla presenza di Dio perché il velo è stato rimosso non c'è più nessun velo che ci separe in realtà da Dio essendo che i giudei non avevano riconosciuto Gesù come Messia perseguitavano i cristiani difatti la chiesa primitiva stava soffrendo tanta persecuzione da parte dei giudei e Paolo e Pietro nelle loro lettere incoraggiano i cristiani ad andare avanti e ad aspettare l'avvenuta e la manifestazione di Gesù Cristo e questa manifestazione era connessa riferita alla distruzione del tempio che c'è stata negli anni 70 con esempi nella prima lettera di Pietro al capitolo primo è scritto affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è più preziosa dell'oro che perisce è tuttavia provato col fuoco sia motivo di lote di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo e sempre nella prima lettera di Pietro è scritto perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione state sobri e abbiate piena speranza della grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo nella seconda lettera ai testalonicesi è scritto poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza anche nella prima lettera ai Corinzi è scritto riguardo alla manifestazione di Gesù perché lui siete stati arricchiti di ogni cosa di ogni dono di parole di ogni conoscenza essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo in modo che non mancate di alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo egli vi renderà saldi fino alla fine perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo quindi la Chiesa Primitiva conosceva e sapeva che ci doveva essere una manifestazione e rivelazione di Gesù Cristo inoltre nel libro dell'Apocalisse Giovanni usa la parola terra o mondo ma connesse ad una area locale perché Giovanni usa la parola cosmos che vuol dire tutto il pianeta soltanto tre volte ma in realtà usa un'altra parola che significa sempre terra ma connessa in una determinata area e la usa 67 volte questa è un'ulteriore prova nel quale dimostra che l'Apocalisse è stata scritta per Israele in realtà e non per tutto il mondo o per la fine del mondo personalmente penso che questa sia la base per comprendere il libro dell'Apocalisse nel quale è un libro di rivelazione di Gesù Cristo ed è scritto in un periodo transitorio cioè dal passaggio dell'antico patto a quello nuovo della grazia nel prossimo video ti racconterò della prima lettera alla chiesa di Efeso se ti è piaciuto questo video condividilo metti un mi piace e iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica God bless you grazie a tutti